Buonasera, buonasera ragazzi, eccoci quindi per una breve introduzione all'analisi del periodo. Noi abbiamo affrontato l'anno scorso l'analisi grammaticale e l'analisi logica. Diciamo che il campo di interesse dell'analisi grammaticale erano le singole parole. Quello dell'analisi logica era all'interno di una frase, complementi che potevano avere anche più di una parola, predicati che potevano avere più di una parola e soggetti anch'essi potevano essere più di un termine, più di una parola, dobbiamo allargare ancora di più il campo e cercare di analizzare le frasi proprio in quanto frasi. Quindi prendere porzioni più ampie di testo e cercare di strutturare, di suddividere la struttura delle varie frasi attraverso un testo più lungo. Ecco quindi l'analisi del periodo che ci servirà, che vi servirà tantissimo anche per l'analisi del testo latino e per la traduzione del latino. In effetti il fatto che si proponga subito in apertura di seconda liceo in italiano l'analisi del periodo serve proprio per essere propedeutici poi allo studio del latino. Infatti nelle codocenze, come vedrete, ci concentriamo con la professoressa anche su questo confronto fra italiano e latino basato sempre sull'analisi delle frasi complete. Cerchiamo di capire però a livello della definizione cosa intendiamo per il periodo. Allora, un periodo in effetti è un insieme di frasi semplici. Le frasi semplici, vi ricordo, sono delle frasi con un predicato verbale e un soggetto espresso o non espresso. Quindi, per esempio, possiamo contare quanti predicati verbali o nominali, ovviamente potrei dirvi quanti verbi ma non ha senso parlare di verbi, prendiamoli i predicati, ci sono in questo periodo e capire quindi che questo periodo è un insieme di tre frasi. Io apprezzi, predicato verbale, non bado, predicato verbale, sono tagliati, predicato verbale. Sono tre predicati verbali con, chiaramente, separati da punteggiatura, adesso vediamo bene, che indicano quindi tre frasi. Tre frasi che vengono però comprese in un periodo, il periodo che si chiude con un punto. Allora, vediamo di leggere cosa dice il libro. Le parole evidenziate nel testo sono predicati. A ciascuno di essi corrisponde una frase semplice che abbiamo separato dalle altre con una barretta. Ecco le barrette. Qua è doppia, capiremo perché. Le frasi semplici sono collegate fra loro in unità di significato più ampie dette frasi complesse o periodi. In questo caso i periodi sono due, separati da una doppia barretta. Quindi, vedete, la doppia barretta stacca un periodo dall'altro. Quindi un periodo è un'unità di significato più ampia. Si può dire o periodo o frase complessa, noi diremo periodo. Un periodo è un'unione di due o più frasi semplici. Frasi semplici, ripeto, frasi con un solo predicato. In ogni periodo, ripeto, i periodi sono due, uno e due, perché qui c'è un punto e ogni punto chiude il periodo. Quindi, in ogni periodo c'è una frase, autonoma dal punto di vista sintattico, che fa da cardine della struttura e alla quale tutte le altre frasi sono collegate, direttamente o indirettamente. È la frase principale. Nel nostro esempio sono le frasi sottolineate. Quindi, la frase principale è quella all'interno di un periodo che sta insieme anche da sola, che sta in piedi anche da sola. Infatti, se io prendo il primo periodo e leggo, lo leggo tutto, benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non vado di solito alla perfezione o meno, con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Allora, se io prendo una qualsiasi di queste tre frasi, mi accolgo subito se sta in piedi da sola, sinteticamente o no. Vediamo. Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, punto. Non ha senso, perché mi aspetto che questa frase, a questa frase ne segua un'altra. Non posso dire, benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, punto. Mi manca qualcosa. Con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una frase non può iniziare così. Con cui sono tagliati, cos'è questo con cui, no? Quindi, anche questo secondo esempio non va bene. L'unica di queste tre frasi semplici che regge anche la sola è Non vado di solito alla perfezione o meno. Questa è una frase che è principale perché è l'unica che può essere autonoma. Vediamo il secondo periodo. In realtà questo secondo periodo, nonostante sia il più lungo, ha soltanto due frasi semplici. Perché anche se questa prima frase è lunghissima, c'è solo un predicato. E quindi questa è una frase. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni. Questa frase potrebbe stare anche da sola. E quindi è la frase principale. Anche perché è quella dopo, il cui predicato è risplendeva, la leggo, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Chiaramente non posso iniziare una frase con il quale. Mi manca qualcosa prima. Quindi in questi due periodi, identificare la frase principale è piuttosto semplice. Andiamo avanti. Quindi qui ancora vi riassume il fatto che un periodo è composto da tante proposizioni. Io ho detto frasi, ma sostanzialmente dire proposizioni o dire frasi è la stessa cosa. Quindi, un periodo composto da tante proposizioni, quanti sono i predicati che contiene? Quindi, ci sono tre predicati, un periodo avrà tre frasi o tre proposizioni. Ok? Chiaramente c'è sempre una proposizione principale che deve essere sintaticamente autonoma, in soldoni deve stare in piedi anche da sola, e deve essere espressa con un verbo di modo finito. Il modo finito può essere l'indicativo, l'imperativo, per esempio, il condizionale, non sono modi finiti, il congiuntivo, l'infinito, il gerundio. A questa principale si collegano in vari modi, che vedremo poi in classe, le altre frasi. Quindi, a seconda di come si collegano fra loro le proposizioni di un periodo, parliamo di o proposizioni coordinate, oppure subordinate. Questo lo vedremo poi in classe. Io posso avere delle proposizioni coordinate, ve lo anticipo, sono quelle magari legate con una E o una O. Vediamo se ne trovo qualcuna. Perfetto, non ci sono. Per esempio, ieri ho mangiato un panino e ho bevuto una Coca-Cola. Ecco, ieri ho mangiato un panino, è la frase principale. E ho bevuto una Coca-Cola, è una frase coordinata. Alla principale. Perché è coordinata perché sta sullo stesso piano, ma poi questo lo vedremo. Oppure, molto più frequentemente, possono essere subordinate, cioè collegate in un rapporto di dipendenza, come sono del resto tutte queste frasi dei due periodi che abbiamo visto. Perché con cui, benché, il quale, sono tutte delle preposizioni che introducono frasi subordinate. Ma adesso non ci interessa. Ci interessa beccare le principali. Oppure anche, ripeto, ancora capire cos'è un periodo. Lo ripeto. È l'insieme di due o più frasi o proposizioni collegate fra loro. Maria ha messo sul comodino alla radiosveglia che ha preso con la raccolta dei punti del supermercato. Questo è un periodo. I predicati sono ha messo e ha preso. La principale è l'unica che sta su da sola. Quale sarà? Che ha preso con la raccolta dei punti del supermercato? No. Sarà l'altra. Maria ha messo sul comodino a radiosveglia. Questo esempio è appunto costituito da due proposizioni separate da una barretta. Quindi voi imparate a separare con una barretta le varie frasi o proposizioni di un periodo e di utilizzare la doppia barretta per chiudere il periodo. Ricordiamo, ovviamente il libro vi ricorda, che il predicato può essere composto da una voce verbale, attiva o passiva, semplice e composta. Un verbo servile come potere, dovere, volere seguito dall'infinito o un verbo fraseologico sta per, è in procinto di, eccetera, seguito dall'infinito gerundio. Però io mi aspetto che i predicati verbali o nominali voi sappiate riconoscerli. Quindi non mi fermo su questa cosa, ce ne siamo stati un anno o l'anno scorso. La separazione fra periodi, cioè quando mettere la doppia barretta, di solito è indicata da segni di punteggiatura forti, come il punto, il punto interrogativo o esclamativo. Invece se ci sono virgole non c'è un cambio di periodo, ma semplicemente di frase. Quindi quando ci sono le virgole siamo sempre nello stesso periodo. Vediamo un po', vediamo un esempio. Maria diceva sempre che aveva proprio bisogno di una radiosveglia, punto, fine del periodo. Nuovo periodo. Al supermercato ne ha vista una, che veniva data in omaggio con i punti e l'ha ritirata. Fine del periodo. Questo periodo ha tre proposizioni. Ne ha vista, veniva data, l'ha ritirata. Tre verbi. La principale è l'unica che sta in piedi da sola. Cioè, al supermercato ne ha vista una. Perché qui c'è un che che non può introdurre e qui c'è un e. Ultimo periodo. Quando è arrivata a casa, la messa sul comodino era proprio soddisfatta. Occhio, i due punti non interrompono un periodo, eh. Il periodo, lo ripeto, è interrotto soltanto da un punto fermo, da un punto interrogativo o esclamativo. E' chiaro che non ci sono sempre periodi. Cioè, ci sono anche delle frasi singole, delle frasi semplici che finiscono lì. Tipo, oggi ho fame, punto. Questo non è un periodo. Questa è una frase semplice. Una frase semplice ha un solo predicato. Non dipende da altre frasi. Quindi non c'è un periodo perché c'è solo una frase. E' arrivata una lettera di Matteo. Mi sono proprio divertito. Mangerei volentieri con voi. Qui non ha senso fare analisi del periodo perché c'è solo una frase principale. Anzi, non è neanche principale perché non c'è niente di secondario. E' semplicemente una frase indipendente. Qui il libro ve le distingue addirittura in enunciative, interrogative indirette, esclamative, volitive, desiderative. Sono tutti esempi di proposizione indipendente. Ve le guardate voi? Fanno tanti esempi. La enunciativa. Ripeto, queste sono quelle indipendenti. Le interrogative indirette. Dirette. Dirette, scusate. Ovviamente quindi con il punto di domanda. Quelle esclamative, volitive, desiderative. Non mi fermo perché in effetti queste non fanno parte dell'analisi del periodo perché sono tassone. Invece mi piace di più fermarmi sulla proposizione principale, indipendente principale. Cioè quelle che abbiamo isolato prima, quelle che stanno su da sole, quelle che sono autonome sintatticamente. Che ci sono perché sono all'interno di un periodo quindi hanno anche un'altra frase che dipende da esse. Mangerei volentieri con voi, punto, è una frase indipendente. Ma mangerei volentieri con voi, virgola, ma ho un impegno, crea un periodo perché c'è anche ma ho un impegno. Tra queste due frasi che formano un periodo di due frasi, due proposizioni, questa è sicuramente quella principale. Perché ma ho un impegno non può stare da sola. O anche, per esempio, è meglio che ti prepari. È meglio è la frase principale. Che ti prepari è la frase che chiamiamo secondaria. Ti ho detto di prepararti. Ti ho detto principale di prepararti secondaria. Quindi il primo esercizio sempre, sempre quando si fa l'analisi del periodo, è isolare le principali. Ricordatevi che il verbo della principale è sempre di modo finito. Quindi indicativo, congiuntivo, condizionale o imperativo. Il congiuntivo, occhio a non farvi ingannare, è un modo finito ma spesso non sembra indipendente. Le ricerche furono abbandonate, punto. Questo non è un periodo, è una frase semplice, indipendente. Vediamo quella dopo. Ma dieci anni dopo ripresero perché il relitto era stato avvistato sul fondale. La principale in questo caso è ma dieci anni dopo ripresero. Perché il relitto era stato avvistato sul fondale non può essere principale. Perché c'è questo, scusate il gioco di parole. Perché? Che presuppone ci sia una frase prima. Naturalmente ricordatevi che la principale può trovarsi all'inizio e in mezzo alla fine del periodo. Non per forza la prima in ordine di apparizione è quella principale. Alla principale, come ho detto prima, possono collegarsi direttamente frasi di due tipi. Le coordinate e le subordinate. La coordinazione, che spesso utilizza la congiunzione e per unire le frasi, pone due frasi sullo stesso piano mediante. Quindi attraverso una congiunzione coordinante che può essere e, che può essere o, che può essere oppure, che può essere anche, eccetera. Oppure anche, oppure ma, o alcuni segni di punteggiatura che possono essere, per esempio, due punto e virgola o la virgola. Il cane ha sentito un rumore sospetto e abbaia con insistenza. La principale, ovviamente, è il cane ha sentito un rumore sospetto e abbaia con insistenza è coordinata alla principale. Il cane abbaia, virgola, guaisce, virgola, scodinzola. Sono tre predicati separati da virgole. Il cane abbaia alla principale, guaisce, coordinata, alla principale, scodinzola, alta coordinata. La subordinazione, invece, è un po' più complicata perché crea un rapporto di dipendenza rispetto alla frase principale e può essere introdotta da tantissime congiunzioni, praticamente tutte quelle che vi vengono in mente. Il cane abbaia con insistenza perché ha sentito un rumore sospetto. Questo perché è la spia che ci fa capire che la seconda frase è subordinata rispetto alla principale. svolge una funzione che potrebbe essere simile a un complemento di cause. In effetti qua è perché, quindi potrei dirvi, quando, mentre, dopo che, perché, benché, anche se, sono tutte funzioni subordinate. D'accordo? Occhio che anche le coordinate e le subordinate possono a loro volta reggere altre coordinate subordinate. Questo è uno schema ad albero, sempre più profondo. Vediamo questo periodo. È arrivata una lettera di Matteo, principale, che ci invita al mare da lui, subordinata alla principale. Perché avrà una camera vuota? Ora, perché avrà una camera vuota? Dipende non dalla lettera di Matteo, ma da questa frase qua. Ci invita al mare da lui perché avrà una camera vuota. È come un gioco di matriosche o di scatole cinesi. C'è sempre una più piccola dentro all'altra. Quindi voi dovete proprio rappresentare graficamente e vedremo come si fa. È arrivata una lettera di Matteo, freccia in giù, che ci invita al mare da lui. Freccia in giù perché avrà una camera vuota. Freccia in giù dopo che i suoi saranno partiti. Tutte queste subordinate sono dipendenti l'una dall'altra, non tutte dalla principale. Lo vedremo poi graficamente. Le coordinate invece si trovano sempre dopo la principale o la reggente. Mentre le subordinate anche prima o all'interno. E vedremo poi come. Io mi fermerei qui perché poi la prima lezione che abbiamo dove affronteremo questi argomenti è una conoscenza dove si introdurranno proprio le coordinate. Quindi preferisco aspettare. Quindi intanto cercate di ragionare su queste argomentazioni, su questa introduzione. e poi vedremo insieme come riconoscere subito principale o subordinata o coordinata ovviamente. Grazie per l'attenzione e a presto. Buona serata.